buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite capitolo 3 stagione 3 e oggi vi spiego come riscattare gratuitamente solo per chi ha la playstation e ha attivo che il playstation plus è la skin più o meno la tormenta che questa qua che vediamo nel video dovete avere il playstation plus attivo andare nella sezione pacchetti esclusivi e troverete la skin da riscattare ma vi ricordo solo se avete il playstation plus attivo quindi se ce l'avete fatelo subito per avere questa skin da poter utilizzare su fortnite per questo video tutto vi ricordo di registrare il canale attivare la campanellina mettere un like per supportare il canale e seguirmi su instagram trovate lì qui sotto noi ci vediamo al prossimo video ciao